Dalle prime indicazioni che ha dato la direzione generale è che si va progressivamente a diminuire il numero di tamponi per il Green Pass in favore dei tamponi per il tracciamento. Questo non succederà ovviamente dall'oggi al domani ma nelle prossime settimane lo spazio si ridurrà sempre di più fino anche a finire se il tracciamento diagnostico deve avere la prevalenza. Tutti i dolori del Green Pass. Proprio quando arriva il giro di vita del governo l'Ulsottoberica in linea con la Sanità Veneta dice stop ai tamponi per ottenere la certificazione verde. Stop negli ospedali e nel centro tamponi ovviamente perché poi in farmacia e negli ambulatori privati sarà possibile continuare a fare il test che dà accesso al Green Pass. L'obiettivo invece con la crescita dei contagi è liberare le strutture dell'azienda sociosanitaria che continuerà ad effettuare i tamponi solo per uso diagnostico quindi per tracciare i contatti di chi è il risultato positivo. Oggi pomeriggio sono venuti al centro tamponi almeno 200 alunni che corrispondono a 10 classi e questo è il nostro lavoro sostanzialmente individuare se all'interno di una classe con un positivo ci sono altri positivi. Insomma con l'aumento dei contagi la priorità è evitare il collasso dei tamponi per uso diagnostico. La guerra al Covid però continua per arginare il dilagare del virus. Il nostro lavoro 7 giorni su 7 per 12 ore al giorno consiste nell'impedire l'espansione dell'epidemia quindi continuiamo con i tracciamenti e vedere che non ci siano ulteriori contagi che vanno ad allargare la platea dei positivi. Grazie.